Musica Ben trovati da Sport Today dopo l'ultima gara casalinga del Bologna in casa contro il Napoli oggi al Dallara di nuovo luci accese per ospitare la festa dei tifosi è in corso proprio in questi minuti allora andiamo a collegarci in diretta con il nostro Luca Pinkerle che si trova proprio sul terreno verde del Dallara e vediamo alle tue spalle gente che mangia, gente che beve allora raccontaci un po' l'atmosfera, che cosa sta succedendo e che cosa accadrà più tardi Sì Sabrina siamo qui a Bordocampo, stadio Dallara, ieri c'è stata la partita del Napoli oggi invece una grande festa, un clima meraviglioso, un clima di ultimo giorno di scuola insomma ieri c'è stata l'ultima al Dallara quindi oggi tanti tifosi circa il numero tra 300 e 400 che si stanno ritrovando qui al Dallara per passare tutti insieme una bella serata di festa c'è una bella rietta estiva quindi tanti sorrisi, tanti bambini, tante famiglie come vedete anche un po' dal movimento che si sta creando e formando alle mie spalle è una serata in cui il Centro Bologna Clubs, ovvero tutti i club della Bologna hanno voluto organizzare e dedicare una serata all'incontro dei tifosi con la squadra perché è quello che sta per accadere come chiedevi Sabrina è che sta per arrivare la squadra cioè un incontro con tutti più o meno i giocatori che saranno presenti questa sera per dare l'abbraccio finale di questa stagione perché ci sarà anche il chairman, già ho saputo che farà un saluto alla piazza e dunque ringrazierà tutti i tifosi che sono presenti questa sera e che hanno riempito per tanto tempo lo stadio in questa stagione per ringraziarli del loro supporto di una stagione che comunque Sabrina verrà ricordata soprattutto per i risultati sportivi perché il Bologna fino all'ultimo se la gioca per l'ottavo posto Eh sì, e allora Luca approfitto, visto che poi parleremo stasera ci collegheremo all'interno del pallone nel 7 con te proprio dallo stadio così ci racconterai l'atmosfera, l'arrivo della squadra che cosa dirà saputo ai tifosi ma quello che ti chiediamo è cosa dirà domani saputo a Tiago Motta c'è qualche indiscrezione su questo incontro che è previsto nella giornata di domani intanto mattina, pomeriggio, si sa qualcosa? Allora, di solito dovrebbe essere verso l'ora di pranzo perché è quello un po' l'orario in cui a Casteldebole si riunisce per parlare si cerca di discutere per avere più informazioni possibili Sì, le tracce di quello che saranno l'incontro di domani sarà futuro economia dei bilanci dei prossimi anni perché il Bologna chiaramente dovrà stare attento anche a quanto spendere questa estate ma anche nelle prossime tre stagioni per cercare di ripianare quel deficit a cui aveva accennato Tiago Motta in conferenza stampa la scorsa settimana quindi è un incontro prevalentemente di chiarezza, di trasparenza su quelle che saranno le mosse del Bologna quindi con l'allenatore che verrà messo al corrente di questa cosa un allenatore che comunque va verso la permanenza come abbiamo parlato ampiamente già nelle scorse settimane e quindi noi saremo chiaramente per raccontarvi tutto questo si parlerà anche di mercato Sabrina quali saranno i giocatori per i quali Tiago Motta vorrà comunque formare una task force una spina dorsale della squadra anche durante la prossima stagione chiaramente il mercato verrà valutato anche in base alle offerte che ci saranno però le indicazioni da parte dell'allenatore su quali i giocatori voler trattenere ma soprattutto le ambizioni del club per capire quanto si può spingere avanti questo Bologna e quando con Tiago Motta allenatore bisognerà capire se dalle prossime stagioni Bologna potrà già avere ambizioni superiori di quelle che comunque sta già coltivando e che sta portando avanti fino alla fine perché erano quasi vent'anni che la Bologna fino alla fine non si giocava qualcosa di importante questa è la stagione per farlo e tutti i tifosi che sono qui stasera sperano di vedere un miglioramento della squadra e lo spera anche Tiago Motta e allora domani sicuramente una giornata interessante dal punto di vista del futuro la seguiremo con te da Casteldebole all'interno di tutti i nostri appuntamenti sportivi ma caro Luca ci vediamo con te dalle 21 perché stasera all'interno del pallone apriremo diverse finestre dallo stadio così ci farai un resoconto e magari ci porterai anche qualche tifoso così sentiremo un po' davvero com'è l'umore di chi ama e segue il Bologna grazie intanto Luca, buon lavoro, ci risentiamo all'interno del pallone, a più tardi c'è tanto da mangiare, starò bene, grazie mille infatti lo lasciamo mangiare, abbiamo visto alle spalle un bel buffet quindi ti lasciamo adesso ristorarti un po' e allora grazie a Luca Pinkerle noi parliamo di basket anche perché avremo dalle 21 tanto spazio all'interno del pallone per approfondire tutti i temi legati al pareggio ottenuto ieri contro il Napoli a quello che può ancora indicare l'ultima gara di Lecce si gioca intanto di domenica sera è stato fissato oggi l'appuntamento si gioca di domenica sera a Lecce con posticipo anche se c'è l'anomalia di altre partite con squadre che gareggiano per il famoso ottavo posto tipo la Fiorentina che giocherà venerdì il Torino che giocherà alle 18.30 sempre di sabato insomma con orari un po' sfalsati solo il Monza in contemporanea ma stasera come detto approfondiremo questo tema al pallone nel 7 adesso parliamo di basket andiamo a vedere come vanno le due bolognesi nella loro serie di playoff partiamo ovviamente dalla Virtus che ha vinto facile con Tortona e parla a fine gara il coach Scariolo sentiamo Credo che il fatto di aver avuto una settimana di tempo e salute per preparare fisicamente e tatticamente la partita ci ha giovato abbiamo avuto direi in generale una buona continuità difensiva offensivamente penso che possiamo evitare i momenti nei quali la palla si ferma un po' troppo cerchiamo di prendere i rischi necessari ma globalmente comunque possiamo essere soddisfatti anche lì anche se chiaramente stiamo parlando di un playoff quindi di una gara 1 quindi con un cammino appena iniziato con molti ostacoli davanti ancora giochiamo contro la terza che ha dimostrato forza durante tutto l'anno per essere la terza forza del campionato che vuol dire che è quella subito dietro di noi nel ranking quindi dobbiamo aspettarci sicuramente curve pericolose nelle prossime partite e gara 2 sarà in programma domani sera come per la fortitudo anche la fortitudo domani sera avrà gara 2 contro Cremona è andata male però la prima partita la fortitudo ha perso e allora sentiamo le parole a fine gara del coach Angori una partita che ci aspettavamo sapevamo che Cremona è una squadra molto atletica di grande intensità credo che noi per 35 minuti abbiamo fatto un'ottima partita sia offensiva che difensiva difensiva rispettando il nostro game plan offensiva cercando di muovere la palla e punire qualche loro scelta difensiva poi ripeto loro sono una squadra aggressiva di grande atleticità sono venuti fuori gli ultimi 5 minuti con grande ardore e noi purtroppo non abbiamo retto il colpo credo che siano lampanti due dati di questa partita i 10 rimbalzi offensivi di Vanoli, di Cremona e le nostre 18 palle perse che credo che siano poi il riassunto della partita della nostra sconfitta complimenti a Cremona perché ha fatto un'ottima partita soprattutto nei momenti cardine della partita hanno fatto canestre importanti i loro giocatori più importanti noi come ho detto altre volte dovremmo rivedere la partita ma io penso che non è tutto da buttare semplicemente provare a limare qualche disattenzione come possono essere le palle perse e i rimbalzi offensivi recuperare le energie domani e poi tornare qui a Cremona martedì cercando di metterli ancora più in difficoltà rispetto ad oggi e con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione grazie per averci seguito e buona serata a tutti grazie a tutti